ciao ragazze ciao a tutte e a tutti nuovo video chicchericcio questa notte anzi questa sera buon pomeriggio o buonasera a tutte dipende a che lo avete questo video come state spero bene allora questo è un video dove si parla un po tutto diciamo cosa devo dire ah sì volevo dirvi semplicemente che finalmente sto riuscendo a fare più video solo questi video l'ho cancellati tutti mannaggia a me dove mi stavo raccontando alcune cose non tanto importante più che altro vedi sempre video blog ma anche alla fine non sono riuscita a mandarle in onda ci riprovo tenta sto facendo l'ennesimo tentativo a mandarle in onda adesso cioè registrare adesso sperando che mi vada tutto bene perché non lo so ragazzo non ne ho idea di cosa cosa sta succedendo comunque nulla oggi mio sono sbrigata un po le mie commissioni e dopo di che insomma ho fatto varie passeggiate un po destra a manca preparavo poi sono scesa giù da mio zio al porto uno di speciale e dopo di che sono tornata a casa e ne ho guardato un po di pallobelli appunto modo speciale vi dico come ho passato il giornale più che altro vi sto dicendo aspettate un secondo ero messa un po male ecco perché ero messa di traverso invece devo stare per la dritta allora quindi praticamente sta il fatto che ancora non mi ha fatto le unghiette oggi vedete devo fare le unghiette invece stanno ancora in alto ma si lo so fanno schifo fanno cagare pazienza e nulla a oggi stesso lo vorrei censire sta maschera ma non ho avuto il tempo e ne la voglia ma adesso che ne ho voglia e soprattutto un po il tempo aspettate mi guardo chiare solo innanzitutto sono alle otto e dieci ok allora comunque questa maschera mi è piaciuta moltissimo a parte che nella zona t come vi ripeto quando l'altro video non ha fatto il massimo perché non ho fatto che anche perché la fronte come una come una grattugia nel senso che ce l'ho troppo rubida e non ho fatto un cavolo praticamente non so come mai per un bel dettaglio questa è un 28 grammi di prodotto per un po di lo dice qua vabbè niente non dice niente complimenti 11 minuti di posa ok questo l'ho presa sapone profumi ma non dice quanto c'è di prodotto sono di prodotto se lo dice 28 grammi e qua lo dice 28 grammi vedete qua 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 ecco qua si vede 28 grammi biolograno in tessuto e niente ragazze poi ho comprato non so se si vede da qua da qua e della garnier perché l'altra ma sto terminando quindi vabbè è tutto sommato ragazze non ho fatto una di speciale oggi quindi rimanderò a un altro giorno per lavarmi la stanza pulire mi spalverare ma lo farò un altro momento e vabbè sta il fatto che purtroppo oggi non sono riuscita a fare tutto tutto quello che volevo fare oggi nel senso lavarmi la farla farsi la faccia ciao la camera spalverarla a spazzarla e lavarle il pavimento ora tutto ciò rimanderò domani domani sicuramente lo devo più forza a fare non c'è non c'è cosa che tenga le storie che te lo devo fare per forza e niente allora cosa state vedendo di qui lo specchio si lo devo un po' passare per si vede lo specchio no ma non mi piace né quindi lo devo riuscire vedete che c'è un'ombra di là vabbè diciamo perdere e niente quindi praticamente alla fine resta non mi resta altro che fare tutte le cose domani cioè cercare di pulirmi la mia cameretta camera camerona perché no una camera ragazza di solita non tra con più proprio della ragazza si sono una ragazza ma di 34 anni quindi vabbè no comment niente come ho festeggiato gli anni nulla di che il mio compleanno non l'ho fatto non l'ho festeggiato di chissà che tra qualche dolcetto ma guardando un po di televisione ascoltando di video un po di video su youtube guardando un po di video su youtube e preparando il pranzo ora qualche la cena niente aiutando ovviamente mia nonna in casa nulla di tutto nulla di speciale ho fatto per il mio compleanno già ve lo dico a ecco qua mi rivedete anche la maglietta di snoopy non so se si vede aspettate per farci vedere ecco qua questa maglia di snoopy ciò che il pantone zebrato non so se ce l'ho portato cosa il pantone del pigiama già e nulla come il matito stamattina per me le sopracciglia perché così non posso stare senza le sopracciglia fa tutte smorzate tutte mozzate volevo dire ho usato questa matita qua tutta bella impicciolita vedete e questa è la mia matita che non so neanche che numero si aspettate secondo non riesco a leggerlo non importa anche tra l'altro tra poco lo mettere con l'irio quindi non sarà facile fare tutto questo video lungo il 14 io che è quasi un quarto niente ragazzi io vi saluto miniatura non so se metterlo meno ma la metterla potrei fare anche dopo non importa vabbè potrebbe pensarci prima per la maniatura ma la farò in diretta con voi aspettate con questa maschera che non c'entra una mazza ecco qua e niente quindi basta la televisione anche andiamo bene che si sente anche la televisione e vabbè dettagli e nulla ragazzi se riesco a metterlo qualche musica sottofondo se non metto niente noi ci si vede appunto in un prossimo nuovo video non ho detto all'inizio ma lo dico alla fine mettete un bel like commentate e attivate la campanella se vi scrivete no io non vi costringo a iscrivervi ci mancherebbe solo quello se vi scrivesse vi come si dice come posso spiegarvi se io vi costringo a iscrivervi è come una specie di di cosa psicologica di violenza psicologica no dovete scrivervi spontaneamente no non va bene di iscrivervi al mio canale con costretti con essendo costretti no questo mai non ci deve essere deve essere un canale libero come sono tutti gli altri canali liberi ok ragazze bacio attivate la campanella appunto se vi vorrete iscriverci non crede altro non vi invito a non iscrivervi iscrivetevi se vi va siete liberi e se non siete liberi di non scrivervi non fa nessuna differenza per me non ci perdo e ne mi entra e ne mi esce se volete iscrivervi mi farevi molto piacere se no pazienza non muore nessuno per una iscrizione in più o in meno anzi che non ci vuole iscrivere o guarda i video anche se se l'è scritto va bene lo stesso benvenuto lo stesso o benvenuto lo stesso ciao che dire a presto ciao